Posso dire una cosa che io amo nel mio lavoro? Se volete potete assaggiare questa, questa sarà difficile tagliarla perché ha necessità di andare in frigo al menù un'ora, mentre l'altra, le due Sant'Onoverlo, con i transetti già fatti, è facile, però se questa volta voglio giocare al secondo, questi bigliet sono buoni da mangiare, guarda che c'è, se c'è un'altra scatola, un o due cartoni.